Buonasera area metropolitana speciale elezioni. Ci occupiamo in questa trasmissione per l'occasione del collegio plurinominale o proporzionale. Fate voi primo ospite che ci ha raggiunto in studio qui a Montesilvano il senatore Luciano D'Alfonso. Buonasera D'Alfonso. Buonasera e grazie per il lavoro che fate. Allora lui è il capolista per quanto riguarda il partito democratico perché per quanto riguarda il plurinominale bisognerà mettere una croce sul simbolo. Quello è un aspetto importante da ricordare. Dopo per certi meccanismi automaticamente si vota anche il candidato all'uninominale Camera. D'Alfonso è sempre tra virgolette un po' provocatorio. Stavolta sta parlando di luna per l'Abruzzo? Noi vogliamo che gli abruzzesi, coloro i quali vivono nelle nostre città, nelle nostre vallate, nei nostri piccoli comuni, non smettano di pretendere, di ambire, di coltivare progetti importanti. Come disse Ingrao raccontando del rapporto tra il bimbo e il potere, noi abbiamo bisogno tutti di pretendere qualcosa di più grande, almeno dal punto di vista dell'ideazione, della programmazione, poi in concreto accadrà quello che riusciremo. Ma intanto dobbiamo avere la forza dell'ambizione, la forza di un grande progetto. E qual è questo grande progetto? Fare in modo che sia facile la vita delle imprese, fare in modo che l'educazione e la formazione sia facile attraverso contratti degli insegnanti su misura della fondamentalità del loro lavoro. Dobbiamo fare in modo che l'approvvigionamento energetico torni ad essere normale e non costoso fino alle stelle. dobbiamo fare in modo che i nostri fiumi li continuiamo a risanare. Noi abbiamo messo oltre 370 milioni di euro quando eravamo in regione per i depuratori. Dobbiamo completare questo lavoro perché ci sono le risorse del PNRR. Dobbiamo fare in modo che un'impresa, se vuole creare ricchezza, venga aiutata dalle leggi e dalle procedure a partire dall'autoproduzione dell'autonomia energetica. Dobbiamo fare in modo che nella sanità il rapporto tra il territorio e la struttura polispecialistica determini davvero una presa in carico del paziente fragile che ha bisogno di conoscere diagnosticamente quello che patisce e poi di essere immesso in un percorso che sia funzionante, automatico, veloce. Tutto questo si può fare perché paradossalmente stanno cambiando le regole anche in ragione delle rotture di civiltà che la nostra comunità mondiale ha patito con la pandemia, anche con questa sbagliata maledetta guerra tra Russia e Ucraina. Tutto questo deve svegliare la classe dirigente, il ruolo delle istituzioni, l'utilizzo del potere che deve recuperare per intero una funzione per quanto riguarda i diritti, le opportunità delle persone. Allora la politica è il compito di una grande visione, poi l'amministrazione declinerà procedure e la cittadinanza attraverso anche il lavoro della stampa deve reimparare a giudicare. Io avrei cambiato anche la legge elettorale. Quello che non doveva accadere era di andare al voto subito perché non potevamo permetterci nel mentre questa grande crisi di andare al voto è stato un errore da e di egoisti che volevano incassare il dato del meteorismo elettorale della sondaggistica. Era meglio continuare a lavorare per altri 4 o 5 mesi per mettere a segno leggi anche che portassero riparo al 110% che è una misura intelligente che deve continuare a funzionare magari con delle correzioni e delle manutenzioni, decennalizzare la misura del 110%, portarla magari all'80%, evitare il mercato nero dei ponteggi e degli attrezzi e anche rendere più sicuro il lavoro degli operai perché quando si fa troppo velocemente poi vengono meno anche le vite umane. Tutto questo lo dovevamo, lo potevamo fare continuando a lavorare in Parlamento. Io oggi pomeriggio devo tornare in Parlamento per fare approvare degli emendamenti che aiuteranno l'economia italiana, qui vi comprendendo anche il 110% che tornerà a funzionare. Però non posso con un piede, sto in Abruzzo sulla campagna elettorale, e un piede in Parlamento per portare all'approvazione degli emendamenti. Domani vi racconterò gli emendamenti importanti anche per l'Abruzzo che abbiamo approvato. Per la luce di quello che ha detto, lei dopo il 25 settembre cosa si augura? Un governo politico o un altro governo di unità nazionale? Io mi auguro un governo all'altezza, un governo senza egoisti che abbiano lo sguardo sull'orologio per capire se la sondaggistica dà più ragione all'uno e meno ragione all'altra, allora i soliti egoisti dicono proviamo a sfasciare di nuovo tutti e tutto perché così proviamo ad incassare. Io mi auguro che ci sia un governo ragionatore, un governo con gli occhiali puliti, un governo capace di dare proporzione ai problemi. Nell'antica Grecia, quando si facevano i governi, la prima cosa era evitare l'idiozia di sbagliare le dimensioni dei problemi. Quello che mi aspetto è che il voto degli italiani sia adeguato numericamente, che vadano a votare tanti italiani come era 30 anni fa, che non vadano a votare la metà degli elettori e mi aspetto anche che i candidati si facciano un esame di coscienza una volta eletti e non scompaiano. L'Abruzzo troppe volte a candidati che vengono da lontano, non conoscono neanche la geografia, una volta eletti scompaiono e non si fanno trovare. E lei cosa ha fatto in questi 5 anni? Io ho lavorato molto come presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, ho portato a casa la riforma della giustizia tributaria, sono stato relatore e presidente di commissione, ho ricevuto i complimenti da tutto il Parlamento ed è una riforma che vale 24 miliardi di euro del PNRR. Si stabilisce che l'onere della prova per la contestazione tributaria tocchi all'ordinamento tributario, finalmente nascono i giudici tributari a tempo pieno, non solo professionalizzati, si stabilisce il bollino blu di affidabilità fiscale per quelli che pagano le tasse e si stabilisce anche la responsabilità del funzionario quando fa la sua attività istruttoria. Poi ho lavorato per fare in modo che per esempio ci fossero risorse adeguate per la fusione dei comuni, 105 milioni di euro per la nascita della nuova Pescara, ci saranno anche altri emendamenti che verranno approvati per aiutare la fusione dei comuni, ho lavorato per il piano regolatore del sottosuolo delle città, il sottosuolo va conosciuto perché quando si fa una scuola, quando si fa un ponte, quello che sta sotto, quello che si vede si deve sapere da parte del comune, a volte Telecom, Enel, Acquedotto non svela quello che c'è nel sottosuolo di un comune e questo ostacola la velocità delle opere pubbliche. Ho lavorato per fare in modo per esempio che l'interpello per chi investe da fuori in Italia a favore di imprenditori che possano e debbano sapere ma se io vengo ad investire in Abruzzo quanto devo pagare di tassazione con l'interpello reso più facile, più adattivo anche rispetto a cifre di investimento che sono per esempio ieri erano 30 milioni, poi l'abbiamo portato a 20, adesso lo porteremo a 15 milioni per fare in modo che l'imprenditore non debba avere paura dopo aver fatto l'investimento di quale tipo di tassazione deve sostenere. Ho lavorato per la riforma del procedimento amministrativo, ho lavorato per fare in modo che quando i cittadini incontrano la giustizia penale e si vengono a trovare davanti alle domande dell'autorità giudiziaria per le cosiddette assunzioni a SIT, cioè quell'attività di accertamento conoscitivo che fanno anche le aliquote di polizia giudiziaria potrebbe capitare a lei, con la riforma d'Alfonso all'interno della riforma del procedimento penale si determina che lei quando viene ascoltato viene tutto registrato in maniera tale che nessuno la può spintonare a dire quello che conviene all'accusa o quello che conviene ad altre parti, lei è legittimamente registrato per cui si può rivedere come è stato trattato, mi sono occupato di libertà economica, di libertà dei diritti civili, mi sono occupato di portare funzionamento alle istituzioni, ho fatto rientrare 320 studenti dall'estero durante la pandemia, ho portato le questioni dei comuni, ho reso presenti gli assenti, lo sanno tutti gli abruzzesi, nella mia officina ho dedicato 3052 ore per ascoltare i problemi individuali e collettivi, convinto che la politica serve a riempire il vuoto che c'è tra la norma generale e astratta e il problema concreto delle persone. Ancora un minuto, poco più da a disposizione, lei nella prima risposta ha elencato quelle che sono le sue, in particolare le proposte del Partito Democratico, anche e soprattutto per questa regione, ma che feedback sta avendo sul territorio, visto che lei è uno che si muove molto? Ma io vedo coinvolgimento, interessamento, dicono che anche ho una grande esperienza, io non sono un'esistenza digitale, non ho improvvisato il mio impegno politico, se non ricordo male ho studiato anche in sua presenza Scienze Politiche a Teramo, negli anni del grande Luciano Russi, di Rocco Buttiglione, di Lorenzo Ornaghi, poi ho fatto tutta la scala dal consigliere comunale a Lettovonoppello, il consigliere provinciale, il presidente della provincia, il consigliere regionale, il sindaco di Pescara, rieletto due volte, poi ho fatto il presidente della giunta regionale, a Pescara ho conosciuto anche l'accertamento, i miei avversari anziché provare a battermi hanno provato ad abbattermi, quelli che ci hanno provato sono scomparsi, io continuo a lavorare per i progetti di crescita territoriale, ho conosciuto la cattiveria, ho conosciuto il consenso, molti di quelli che mi hanno accusato sono anche i miei sostenitori come cittadini nella loro dimensione civica, riscontro, attenzione, riscontro anche il riconoscimento che ho guadagnato una certa esperienza e tecnè, c'è quella battuta di Induccio che dice, le vo fa, pare che le sa fa, facemi le fa, perché le sa fa, io mi ci dedico perché so qual è il valore dell'utilizzo del potere pubblico che viene consegnato dai cittadini quando qualcuno si candida, non ho paura di decidere, di farmi carico della responsabilità, credo di averlo dimostrato sempre, a Pescara ci sono dei segni indelebili, la rinascita dell'Aurum, tutte le risorse che abbiamo portato per i depuratori abruzzesi, le risorse portate per la montagna abruzzese, la variante di Montesilvano, chi l'ha fatta finanziare. Adesso stiamo lavorando per il completamento, anche in sintonia col Presidente della Provincia e Sindaco di Montesilvano, sto lavorando per fare in modo che le carceri vengano delocalizzate, sto lavorando in tutte le direzioni in maniera tale che nulla venga sprecato, sto cercando di fare in modo che le risorse del PNRR atterrino in Abruzzo in quella misura importantissima di 3 miliardi di euro e che diventino subito procedure. La ringrazio il Senatore D'Alfonso che ambisce stavolta di diventare deputato della Repubblica. Io la ringrazio molto anche per l'indicazione che ha dato all'inizio, come si vota, basta la croce sul simbolo, nel mio caso il simbolo è quello dei democratici e progressisti per la vita dell'Italia. Bocca al lupo e buona campagna elettorale. Grazie, buon lavoro.